Buongiorno a tutti, oggi giovedì 16 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti dal 20 al 25. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù quando verrà il Regno di Dio? Egli rispose loro, il Regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là perché ecco il Regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui, non andateci, non seguiteli perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'alto del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che gli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Nel Vangelo di oggi la liturgia ci annuncia attraverso questo Vangelo che il Regno di Dio viene, che è in mezzo a noi, ma è anche una realtà che si attende non come un evento tangibile ma come compimento dell'amore di Dio che comincia da oggi per ciascuno di noi. Il Regno di Dio è attesa del compimento ma è un'attesa che passa sempre e comunque per la croce, cioè attraverso il dono di quello che siamo per gli altri, tenendo fisso sempre lo sguardo su Gesù che è lui per primo si è donato e si è offerto per noi. Il Regno di Dio che è appunto il compimento dell'amore non si verifica attraverso grandi proclami o grande imprese ma solo grazie a questo amore di Gesù che si dona a noi ancora oggi perché possiamo essere anche noi segno vivente di questo amore santo. Dall'amore ci riconosceranno, dall'amore che passa dai gesti semplici, da questo amore possiamo riconoscere tra le tante persone che vediamo ogni giorno quell'uomo o quella donna di fede che tante persone magari ci passano davanti però questo amore è il segno di persone che sanno veramente agire secondo il Cristo e quindi sanno attendere il Regno di Dio e ce lo mostrano in mezzo a noi. Dall'amore che passa da questi semplici gesti, dalle persone che magari non parlano molto ma che compiono semplici azioni quotidiane sapendo appunto che il Regno di Dio viene ogni giorno di più e si fa presente ogni giorno di più in mezzo a noi attraverso l'amore. Cerchiamo allora occasioni silenziose, cerchiamole anche noi in questo giorno, azioni che non attirino l'attenzione, nascoste per diffondere quell'amore proprio profondo che Gesù ci insegna per portare e costruire la pace perché il Regno di Dio è una questione di bellezza profonda, di autenticità vera e di questo oggi più che mai abbiamo davvero bisogno. Buona giornata.